Sì, raccontare il 2023 non è proprio facile perché le cose che abbiamo fatto sono talmente tante e difficilmente raccontabili in pochi minuti. Le quattro più significative sono stata la depurazione dell'asta fluviale con il raddoppio del depuratore a Montecchio per tutti i comuni confinanti. Il secondo è il nuovo municipio e poi la piazza, una piazza molto grande in funzione anche delle scuole, in funzione della Casa della Salute, della palestra, tutti i servizi che sono qua, qui quando uno viene qui c'è tutto. E poi la ciliegina, diciamo, con un fiore all'occhiello è il teatro Giovanni Santi dopo aver messo a nuovo il teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzo. Quindi Vallefoglia, che non aveva teatri, passa a due teatri. Il teatro delle Colline, Ginestritto, Montecicardo e Sant'Angelo in Lizzo, Giovanni Branca è il teatro Giovanni Santi, sempre Giovanni, a Bottega di Vallefoglia. E lì si aprirà anche la settimana italiana della cultura. Dal 22 al 28 presenteremo insieme al Comune di Pesaro questa settimana con spettacoli, iniziative musicali, teatrali e un auditorio per la musica, il cinema, il teatro veramente interessante. E poi, diciamo, la metanizzazione, gli asfalti, le scuole messe a nuovo, insomma abbiamo fatto di tutto e di più, tant'è che io riassumo che chi viene dopo di noi non ha quasi niente da fare, abbiamo fatto quasi tutto. Però abbiamo anche programmato le cose future, perché poi, insomma, per esempio pensiamo che bisogna potenziare la Casa della Salute, pensiamo che bisogna migliorare la mobilità dei trasporti, pensiamo che bisogna costruire un polo per l'agroalimentare, per i prodotti tipici di queste località ed avere un luogo anche per la formazione professionale di giovani manager e per la competizione internazionale. Pensiamo ad un raddoppio della piscina a Pian del Busco, quelli critici, quando io ho iniziato a fare vita politica, dicevano che era una cattedrale nel deserto voluta da Ucchielli. Era talmente cattedrale che bisogna raddoppiarla oggi, perché qui ci sono più di 50.000 abitanti. Abbiamo previsto un campo per il calcio, regolare per giocare in Serie A, chissà mai, non si sa, potremmo giocare e competere e anche andare in Serie A, è stato che abbiamo una squadra di pallavolo che gioca in Serie A. Anzi, abbiamo previsto un finanziamento di 2.400.000 euro per portare il palazzetto dello sport a 10 metri, 1.500 posti, non solo per fare i campionati italiani, ma addirittura per fare i campionati europei. Abbiamo circa 20 chilometri ciclopedonali, altri 5 chilometri in corso e diciamo che è una realtà in fortissima crescita.